Apoteosi al palacardito, Ariano si aggiudica lo scontro al vertice contro Salerno e riscrive la classifica. La squadra del Tricolle si è imposta nettamente all'esito di una gara vibrante per lunghi tratti equilibrata, ma che ha consegnato alla fine alle ragazze dei coach Bellizzi la vittoria per 66-55. Con la vittoria non solo Ariano ha agganciato Salerno in termini di punti, ma si è giudicato anche il primato, in virtù del vantaggio negli scontri diretti. Si è dunque riusciti nell'impresa di replicare il successo dell'andata, quando la partita si chiuse con un successo sofferto della squadra di coach Bellizzi, in quell'occasione costretto a centellinare l'impiego di Capitan Moretti, eccessivamente gravata di fagli e dunque non rischiata prima dell'incandescente finale che consegnò il successo per una sola lunghezza. Delusione per coach Aldo Russo, che aveva caricato le sue giocatrici dai social, ma contro la forza della compagine arianese non sono bastate le motivazioni virtuali e reali del tecnico salernitano. In casa Ariano non si sono fatti sentire affatto gli straordinari fatti in occasione della sfida di Coppa Campania, che valsa la Final Four alle ragazze di coach Bellizzi. Salerno aveva invece saltato l'impegno programmato contro Agropoli per rinuncia della società avversaria. Nonostante un'intera settimana a disposizione per preparare la sfida di ieri, Salerno alza bandiera bianca, cedendo il primato alla squadra arianese, che dunque guarda adesso tutti dall'alto in basso. Dopo un primo quarto in equilibrio, chiuso da Ariano in vantaggio per 20 a 18, un primo strappo alla gara veniva dato nella seconda frazione, quando le leonese ingranavano la marcia e staccavano nettamente Salerno. Le due squadre andavano negli spogliatoi per la pausa lunga con la Virtus avanti, sul 38 a 29. Ma come sempre accade nelle gare di questo livello, in cui la qualità delle contendenti è altissima, la vittoria, che sembrava già in cassaforte, ritornava in discussione nel terzo quarto. Salerno reagiva e piazzava un parziale di 15 a 8, riavvicinandosi pericolosamente alla squadra di Bellizzi. Il tentativo di riaprire la partita per ben due volte da parte delle avversarie della Virtus si fermava solo al pari temporaneo, perché sistematicamente la squadra di casa riusciva a ritornare in fuga. Nell'ultimo quarto, girandola di emozioni, con un vantaggio di 10 punti acquisito dalle leonesse, che in una manciata di minuti venivano però riavvicinate pericolosamente da Salerno, che però dopo un parziale di 6 a 0 doveva definitivamente arrendersi alla fuga di Ariano, che chiudeva il match con il punteggio di 66 a 55. 11 punti che rappresentano lo strapotere della nuova capolista, trascinata come sempre da Moretti, 26 punti per lei, e Ferraretti con 19 punti in carniere. Ha referto anche Albanese e Puzio con 6 punti a testa, Conon Ucenco con 5 e Muscetta con 2. Missione compiuta dunque per la Virtus, ora il primato è solo da difendere.